Nei giorni scorsi la giunta regionale su proposta dell'assessore alla salute Nicoletta Verì ha approvato il riordino della rete ospedaliera abruzzese. Il documento che ora andrà al vaglio della commissione sanità del consiglio regionale ed infine del ministero della salute prevede la riqualificazione del nosocomio san massimo di penne in ospedale di base con sede di pronto soccorso. Stando al pieno di riordino il presidio ospedaliero passa da circa 85 posti letto a 102 di questi 45 solo di lungo degenza. Inoltre saranno assegnate tre unità operative complesse medicina generale chirurgia generale lungo degenza mentre saranno ridotti a servizi semplici oncologia oculistica laboratorio analisi e radiologia. A margine di queste prime decisioni sono tornate a protestare in piazza le associazioni lotta sanità vestine salviamo l'ospedale di penne che da anni si battono per evitare il depotenziamento dell'ospedale chiedendo come la sanità pubblica debba essere il cuore della ripartenza. Ci siamo ritrovati a maggio qui dell'anno scorso veniva tutta la giunta in bomba magna anche marsiglio annunciarci iniziavamo i lavori a novembre entro dieci giorni a maggio l'anno scorso assumevano medici infermieri poi sono tornati a novembre dicendoci di aprile iniziavano i lavori entro dieci giorni assumavano medici infermieri eccetera in realtà non si è visto nulla di tutto questo solo chiacchiere e propaganda. A protestare a gran voce con loro anche i politici che siedono sui banchi dell'opposizione in consiglio regionale Antonio Blasioli del partito democratico denuncia carenza di personale nel reparto di medicina che contava prima 14 medici ed ora solo quattro di cui una che garantisce il turno di notte a settembre andrà via così come a geriatria dove i medici da dieci sono diventati tre. Una rete che difficilmente verrà approvata e che ancora più difficilmente può trovare esecuzione per il numero di medici che eventualmente dovrebbero essere previsti. I tanti medici infermieri il personale sanitario per l'area vecina con passione e con professionalità porta avanti il proprio lavoro. Occorre intervenire prima della nuova rete ospedaliere altrimenti probabilmente l'ospedale di Penne sarà chiuso de facto. Presente anche Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle il quale oltre ad essere preoccupato per l'imminente scadenza della deroga per la legge Lorenzin esprime preoccupazione in vista di una possibile ristrutturazione del San Massimo. Perché quando si ristrutturano alcuni presidi ospedalieri si sospendono delle attività e già l'abbiamo visto in passato sospendendo delle attività si abbassano gli accessi e non vorrei che abbassandosi gli accessi si possano giustificare dei nuovi tagli, delle nuove depotenziamenti e declassamenti della struttura ospedaliere. Io sono fortemente preoccupato. A me non serve che questo diventa un ospizio con tutto il rispetto per l'ospizio o una casa di riposo. Questo deve essere un ospedale con la sua ristrutturata. Grazie.